Il mercato di San Decenzio da oggi aggiunge alle sue bancarelle anche quelle dell'agroalimentare che fino a martedì scorso erano collocate nella piazzola di fianco al Tribunale. Si arricchisce dunque di nuovi ambulanti e di nuovi clienti. Per questo il Comune ha provveduto anche a realizzare nuovi parcheggi dedicati proprio al mercato. È un grande successo, sono molto contenta anche perché ero preoccupata. Noi chiaramente quando prendiamo decisioni e sono state prese insieme, come ho già detto, dallo scorso anno insieme ad alcuni ambulanti ma anche all'associazione di categoria c'è sempre la preoccupazione perché spostare un mercato era fondamentale, dare la giusta comunicazione ai cittadini e far sì che queste persone che lavorano all'interno del mercato possano avere più clienti. Il mercato del martedì aveva bisogno di una riqualificazione e finalmente ci siamo riusciti. Adesso ci sono delle piccole rifiniture che dobbiamo sicuramente aggiustare. Oggi è il primo giorno però sono molto contenta e si vede anche alle mie spalle le persone che stanno partecipando al mercato. Quindi questo è un modo per creare un indotto nella città anche perché ci sono tante famiglie pesaresi che lavorano nell'ambito del mercato cittadino. Questo spostamento è stato difficilissimo con migliaia di polemiche perché appunto spostare un mercato rende sempre la cosa col punto interrogativo. Ma da quello che è il risultato e da quello che è la gente sicuramente la mossa strategica dell'assessore Frenquellucci della Confesercenti dà modo a noi ambulanti di essere più tonici, più vivaci e lo vediamo alle mie spalle con tantissima gente anche perché i prezzi sono buonissimi e introdurre l'agroalimentare in questo spazio vuol dire avere molta più gente nel mercato stesso. I parcheggi sono aumentati, addirittura dove c'era prima i posti dell'agroalimentare ci sono 90 posti in più e quindi è tutta una serie di cose che danno modo alla gente di venire al mercato perché al mercato la gente ha bisogno di spazio e ha bisogno di visibilità e la visibilità con la frutta e verdura sicuramente aumenterà dell'80%. Oggi è il primo giorno, bellissima giornata, ci troviamo bene, dai i clienti ci stanno ritrovando qui da come si vede, come primo giorno non è male adesso aspettiamo quel passare del tempo che tanto un cliente viene santuariamente e aspettiamo che ci trovano tutti. La piazza non è male, è bella. Poi abbiamo il parcheggio, la piazza qui dietro dove abbiamo lasciato l'altra piazza che c'è anche il parcheggio, diciamo ci sono 90 minuti di parcheggio gratuito ci hanno dato anche un metro in più, ci hanno dato, ci dobbiamo sistemare ancora ma ci siamo, ci siamo, dai.